Ciao, primo video, questa volta. Per la prima volta. Sarà? Sì, perché? Io... La bello, proprio, Giulia. Va bene, fai niente. Dai, sui impegnare, almeno, dai. Allora, è la stessa cosa. Non c'è una cosa perché sono da bravo. Vedrete. Vedrete. E preparateli perché mi vedrete strugata. Qualimente avrete un fatto. Io sono sempre strugata. Senta, me ne mancherete altro. Bellissimo. Vabbè, non ci vedete con gli abiti che indosseremo nel video perché li abbiamo registrati per molti diversi. Infatti, dovevo lavare questi. Quindi ho dovuto prenderli. No, non fate mai caso alle sue pattute perché... No, no, perché. Sì, sono. E... Niente, facciamo partire questo video perché sennò poi la gente stia... Andiamo! Speriamo che vi divertiate. Ok. Allora, guardatevi il video se vi interessa. Buona visione, ragazzi. Ciao! No, però... No, però... Faccio la... Faccio la... Faccio la... Faccio la... Mi sento la... No, non so di me. Non sa di me, ma. Io voglio far vedere... se ogni giorno mai... tutto il mondo ci vedrà questo video. Non farò vedere... Che cosa io mi vuole dalla mano. Non è tutto, eh. No, no. È poco quello che abbiamo fatto da là. e la base diciamo ma questa non è la base quello che si fa lo stufo un po' di aspetta, no, 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 mi sento troppo qui perché la gente va a caer il pennellino non c'è no c'è qua c'è il mondo ma è piano che se cade qualcosa ti rompo il cervello non è finito ma fanno così ok, io faccio così sì, ma se cade faccio cadere bene non c'è guarda ma qua cosa si immagina il pennellino ma è vero che si persiglia sì sta aumentando in questo posto non aumenta più è vero che ci sono cinquanta mascare non c'è allora ti metto prima cosa ma ma come cos'è quasi dite me lo vuoi inviate un messaggio adesso e dite me lo vuoi allora io inizio da questa allora io inizio da questa è vero che ci sono cinquanta mascare di un passo si chiama bb3 vero? io non dico niente eh devi dire se l'ho azzeccata devi dimmi chi eh voglio vedere cosa ti viene qua vediamo questo un'altra ora questo lindio devo mettermi la mano devo mettermi la sua mano devi caparsi si è proprio l'ingio devi farci di poco di poco di poco oi mi metti solo giù se lo spalmo così la pasta buttata è bloccato ancora è bloccato la fila noi ci spagniamo su, solo sulla faccia ah, devo vederla anche no, se vuoi fare il vecchio mascherone che si vede in costo più no, perché vedete le ragazze che ti facciano una mano è un bello schifo ah, è un bello schifo mi fa dire che c'è un bambino per me ti faccio vedere ti faccio vedere ti faccio vedere questo è un massaggio no, mi sono solo dei piedi ti faccio vedere ok, perfetto la protezione è fatta questa ora io ti direi di andare più a dare la mano guai non ti faccio vedere non ti faccio vedere no non ti faccio vedere ok adesso qual è il sole? no io non ti devo dire niente io se non mi stia capisco questo qua il decolo ciumato qui no sì lo so che trocca ogni seconda ok, perfetto io ho perfetto le occhi io sono più umana no, non devo vedere io non vedo lì tanto lì non vedo un cavolo perchè è tutto stracciuto ah, adesso qui poi io ti faccio? sì, ti faccio vedere io ti faccio vedere togli ti faccio vedere la roba che ti faccio ah, ok perchè non ho capito niente non ho capito niente non ho capito qui non ho capito niente cioè 는데요 non ho capito niente intepaticー però non sai l'inglese dell'inglese allora l'inglese 1-2-1-2-1 e allora sull'inglese ah così senza mettere niente ah il primer il primer il primer sì e allora bene due ore di una sede va in navigare eeeh la prima ah quella lei ha l'imparazione della scienza ok vediamo cosa possiamo fare ah allora oggi una giornata qui io volevo qualcosa di più di un giallo ma l'unca fa l'unca eccola ok giusto perché non bastava non c'è l'unca non c'è l'unca ma l'unca poi ci sono tra tra seggi 1-2-3 ok va vai non c'è l'unca 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 ma non c'è l'unca ma Piano che questo polvo Adesso Dov'è quel colpo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.